Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Dalla serata di oggi giovedì aumento delle nubi per l'arrivo di una veloce perturbazione associata a venti freddi settentrionali nelle prime ore di domani venerdì, possibili piovaschi o rovesci sparsi, anche con nevicate nelle zone interne, esaurimento dei fenomeni mattinate parziali schiarite, sabato soleggiato e freddo, aumento delle nubi in serata, domenica ancora schiarita ponente, nubi diffuse e locali precipitazioni sul centro Levante. Andiamo nel dettaglio, oggi giovedì 14 gennaio nubi regolari con schiarite anche ampie nel pomeriggio, seguita da un nuovo aumento delle nubi per l'avvicinarsi di una veloce perturbazione seguita da aria fredda, non si escludono locali piovaschi sul centro ponente in tarda serata, venti deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica sulla costa, moderati settentrionali sui rilievi, in serata rinforzi orientali a Levante, successiva generale in rotazione da nord nord est con rinforzi sul centro ponente, mare molto mosso localmente agitato per onda lunga di il beccio a Levante, tramosso e molto mosso a ponente, temperature massime in aumento lungo la costa tra 14 e 16 gradi, nelle zone interne intorno a 12-13 gradi. Domani venerdì 15 gennaio, aumento dell'instabilità con possibili piovaschi e rovesci sparsi fino a moderati nella notte per il brusco ingresso di aria fredda artica, quota neve in calo con possibili spolverate fino ai fondo valle e sui versanti padani oltre i 300-500 metri altrove, fenomeni in esaurimento già in mattinata e tendenza parziali schiarite specie sulla costa, seppur con nuvolosità medio alta a tratti estesa, nubi più insistenti sui versanti padani, venti moderati o forti settentrionali sul centro ponente, in temporanea attenuazione e rotazione da sud ovest nel pomeriggio sull'imperiese, deboli o moderati da est, nord est a Levante con rinforzi specie in serata, mare inizialmente mosso, localmente molto mosso a Ponente per onda da est, a Levante per residuo a onda lunga di Libeccio, molto ondoso in graduale calo sotto costa nel corso della giornata, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 3-6 gradi, nelle zone interne intorno a meno 1-1 grado, massime in diminuzione lungo la costa tra 8-11 gradi, nelle zone interne tra 4-7 gradi. Dopodomani, sabato 16 gennaio, la rimonta di un promotorio anticiclonico riporta cielo soleggiato, a parte residui a densamenti o foschie sui versanti padani, dal pomeriggio velature in arrivo da Ponente, locali formazioni di nubi basse per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali, venti moderati settentrionali con locali rinforzi sul centro ponente fino al mattino, in successiva attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali, mare poco mosso, levante con residuo a onda lunga di Libeccio, mosso a Ponente per onda da est in graduale calo a poco mosso, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 0 e 4 gradi, nelle zone interne tra meno 5 e meno 3 gradi, massime stazionare lungo la costa intorno a 8-9 gradi, nelle zone interne tra 5 e 7 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia, a risentirci!